Ciao amici di Cookies! Prepariamo insieme il pane naan Sciogliamo il lievito nell'acqua Un cucchiaino di zucchero e aggiungiamo il tutto nella farina Sale, olio e un po' di muscoletti Impastiamo per bene fino a ottenere un panetto morbido e non appiccicoso Riprendiamo l'impasto dopo due ore e dividiamolo in otto parti Diamo ad ogni panetto una forma rotonda e in superficie un po' di prezzemolo fresco Padella antiaderente, fiamma alta e coperchio Guardate come si gonfiano! Il pane naan è pronto ed è morbidissimo Perfetto da arrotolare o da immergere in un condimento sfizioso Una volta assaggiato non smetterete più di prepararlo